Ma che c'è il mio famiglia? Ma che è? Ma cos'è? Shhh! Ma chi è? Oh! C'è qualcuno? Buonasera! Ma com'è buonasera? Ma che stai a fare? Ma Nando? Ma nel camerino di Maria Amelia che stai a fare? Nel camerino! Che ne sono? Questa ho qua! Ma saranno cazzi mie!